Donare speranza di vita, la donazione degli organi, il tema portante di uno degli incontri del ciclo Dialoghi Altamurani nella sala del sinodo della parrocchia Trasfigurazione di Altamura. Le associazioni AIDO, ADMO e ANED hanno portato il racconto delle attività di volontariato, le testimonianze di chi vive una nuova vita grazie al trapianto, l'importanza della cultura della donazione. Ospite il professor Loreto Gesualdo, coordinatore del centro regionale Trapianti. Grazie alla generosità delle famiglie pugliesi quest'anno la Puglia registra il record dei record. Abbiamo superato i 200 trapianti effettuati, 60 di cuore, 54 di fegato e molti trapianti di rene. Anche il territorio murgiano ha contribuito a questo successo grazie alla generosità delle famiglie altamurane. E' stato prelevato un fegato recentemente di una signora deceduta per morte cerebrale. Incentivare la cultura del dono significa incrementare il numero dei trapianti in Puglia e salvare più vite umane. Come farlo? Basta parlarne e portare a casa, portare nelle scuole il messaggio del dono, e il messaggio della vita aiuta certamente ad incrementare la sensibilizzazione e la cultura del dono.